Ciao a tutti sono Spiega e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale Allora come vedete oggi non c'è la Techcraft perchè non abbastanza tempo per registrarla Quindi per forza devo registrare questo Era da molto che non ci giocavamo e ricominciamo a fare Minecraft PvP Allora come vedete ci sono già sparando alle chiappotte Quindi fa Q Sì noi siamo più da cechino che ho da fa' più Siamo molto vicino a una collaborazione quella che avevo promesso quindi State più certi che il tempo che ho usato oggi Allora il tempo che ho usato e che dovevo usare per registrare la Techcraft l'ho usato per voi perchè Mi stavo mettendo d'accordo con una persona per una collaborazione nel sito No non nel sito nel canale Ma non vi do altre info perchè se no sarebbe stupido Non sarebbe una sorpresa Surprise madafucka Quindi 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 niente Non vi darò altre info Le vedrete tra poco Ha fatto una suona fighissimo Scusate un attimo Ma controllo se ho messo il microfono Sì Mi hanno aperto le chiappe Ecco ecco Per il momento giusto Per s... Vaffancare la Fafancane Vaffancare Se io passo qui che succede Che cosa c'è 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 Niente Fà un culo da moltissimo che non giochiamo a a un minecraft pvp in reality cuore amore amore moto e con leve and you are the fuck is this one the fuck what the world the past the planet non ci mangiamo la merinda sostanze così tanto per farle tanto per ricordare in realtà questa mappa non ha molto senso quindi mi so che cambio 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 ci sono delle chest vuote allora che squadra sono? sono rosse quindi devo uccidere questo blu muori muori emm si fa più ha funzionato io l'ho distratto e loro lo uccideranno vero che lo uccidete tanto non è scampo dovete togliere da mezza le palle ball scusate scusa passavo di lì no 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 na 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 no na 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 calmini 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 calvizie Cazzarola Ho stravolto anche questa settimana La schedule Non riesco a tenerla intera Sopre integra Però sembra più un Un GPU della NVIDIA O una CPU non mi ricordo NVIDIA Tegra NVIDIA Tegra Aia mi pizzica l'occhio Un attimo mi pizzica l'occhio Oh senti mi ha rotto la Ti ucciderò Mi avete chiesto di far vedere le statistiche di questo server Cioè del mio personaggio in questo server Ve le farò vedere In questo momento credo No scherzo non ho voglia di montarlo Se mi ricordo lo metto Ma non credo di ricordarmelo Se no vi do il link ve lo guardate voi direttamente E che cassio Oh qualcuno ha ucciso qualcuno E quel qualcuno sono io Che ho ucciso quel qualcun altro Com'è strana la vita Quando stavo registrando Cioè adesso Ho ammazzato appena due persone Quando non stavo registrando Con la persona che sarà il nostro Futuro collaboratore Collaboratore di giustizia No scherzo Collaboratore Non collaboratore Effettivamente è un socio Del canale Sarà un socio del canale Ho fatto vincere la squadra Si 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 E ho degli screen che lo provano Allora figlio di Figlio di putte Venga Si Ehi ehi Tua madre è come una lavatrice Si fa bianchi i colorati E co No eh Si fa bianchi i neri i colorati Tutti insieme A 90 gradi Si le battutacce Mi sto preparando Ad uccidere No ce ne sono Allora Ciao Non mi metto troppo nella Ecco Sono nella merda Io fuggo Ci vorrebbe una bella pistola Pistolero Olè Faccio Ehm Ma fa pu Fa pu Fa pu Fa pu Fa pu Fa pu Fa Mi serve Che mi Allora no Per Fare questa collaborazione Di cui vi sto parlando Sino adesso Che sarà Nella serie Probabilmente nella serie Techcraft E magari anche in qualche Minecraft Ho bisogno di un server Ho trovato un gestore di server Abbastanza serio Molto conosciuto Però se ne avete da consigliare altri Beh venga Ho trovato Gamehosting Che ha aperto questo sito Che si chiama Minecraft Europe Dove ti permette Dove permette di pagare Diciamo Quei crediti Cioè si comprano i crediti E poi tramite i crediti Attivi il server Per i giorni in cui ti serve Il server Cioè tipo Se vi serve per un giorno Costa 11 centesimi Se vi serve per due giorni Costa 22 centesimi E così via Se lo avete per un mese Costa tipo 3 euro E 50 Poi ci sono delle offerte Insomma Dipende anche dalla RAM Che le date Ehi ciao Ma quanta gente Ho morto oggi Aspettate che Sto sistemando il mouse Aspettate Ok Avvo il mouse postato Dal PC Ma esci fuori dal pavimento Ma che schifo Oggi sono una macchina da guerra Io are a machine gun Io are a machine gun Non mi sciva la voce E non è stato Tu 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 Ah ma bellini Basta Sono leggermente acceso Occi 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 Sento Occi Occi Basta Ma esci fuori Fa chiulo Che bello Ho cambiato il timer E mi piace un casino Questo qua Siccome adesso Non uso più Il timer dell'iPod Ma uso direttamente Il timer Un timer scaricato Dal Play Store Di più non ricordo il nome Comunque se non sbaglio È tipo la seconda Voce O la prima No la terza forse Ok È finita la partita È finito anche il tempo Giusto in tempo Just in tempo È morto Justin Bieber Un attimo prima del suo compagno Certo E arriva Orazio Si alza gli occhiali Just in tempo Ok basta Come ci dice il nostro timer Il mio timer Voi non lo vedete Ma io lo vedo Come ci dice il nostro timer Ah già che ci sono Vi dico anche il nome Già che ci sono Già che ci sono Già che ci Già che ci Si chiama precisione timer Non chiedetemi il perché Però si chiama così Conta la rovescia Va bene E niente Stavo dicendo Il video è finito Se il video ti è piaciuto Mettimi in piace Iscriviti e condividi Mi avete detto che parlo troppo veloce Lo so Ma non cambierò Io sono Spiga98 Mi trovi sempre su Google Plus Su Twitter Sul mio sito Spiga98.x10.mx E se vuoi le statistiche Di questo server Le metto in descrizione Probabilmente se mi ricordo Magari anche nel video Che ne so In qualche modo Boh Vedremo più Avanto Avanti In realtà Ok E niente Ci vediamo nella prossima Puntata di Minecraft PvP O meglio Ci vediamo nella prossima puntata Di Techcraft Se riesco a registrarla Speriamo di si Vabbè Sono riuscito a registrare questo Per fortuna Quindi niente Il video è finito Ciao a tutti No però io voglio fare ciao a tutti Voglio fare ciao a tutti Allora F-Sync Ciao a tutti Ciao No aspettate Voglio vedere una cosa Ok Ciao